Sembra che qualcuno oggi voglia dare l'idea di un continente che si prepara alla guerra, di un'economia europea che si trasforma in un'economia di guerra. Ecco, questo è un concetto pericoloso, pericoloso nei suoi effetti, ma a mio avviso anche incompatibile con quello che è il progetto europeo. E credo che il Consiglio, nella prossima riunione, abbia l'obbligo di ribadire questo tema, il valore del progetto di cooperazione europea è la pace. Non è possibile che nella testa di qualcuno un'istituzione che nel 2012 è stata addirittura premiata col Nobert per la pace si trasformi appunto in un continente che si prepara alla guerra. E questo deve andare di pari passo, ovviamente, con ribadire che noi siamo pronti a sostenere l'Ucraina, ma che l'Unione Europea rimane un progetto di pace.